signori buongiorno oggi andremo a vedere quattro video che mi avete mandato questi video li vedrò per la prima volta quindi vi dirò cosa ne penso cosa vedo di strano cosa non mi piace e cosa mi piace perciò impareremo sia dagli errori sia dalle cose fatte correttamente quindi partiamo ok abbiamo quattro partecipanti e il primo è matteo bottoni non so perché ho fatto questa cosa andiamo a vederci il suo video il fondo lo riconosco un po' shakerato qui c'è stato un taglio strano qui mi sembra proprio che ci sia stato un taglio della musica e un po' si nota io magari quando devo mixare pezzi diversi della stessa canzone cerco di mandarle abbastanza in dissolvenza quindi faccio calare un pezzo e l'altro invece lo faccio salire in maniera più graduale possibile taglio con la musica città non male mi piace questa attenzione al dettaglio mi piace la quantità di animali quel shot lì delle barche e la gente così non mi fa impazzire c'è ci sta per raccontare quello che effettivamente è successo però non so è strano cioè stacca un po' la nuca del signore è troppo a lungo c'è troppa importanza questa parte qui secondo me avrei tagliato non so è strano la nuca del signore è troppo a lungo città non sono un grande fan di queste dissolvenze qui diciamo così non male ci sta cavolo mi piace quel gaso lì con le transizioni è una cosa che io ho smesso un po' di fare e me ne pento un po' credo che sui prossimi inserirò qualche transizione in più di quelle mosse allora diciamo che se dovessi dare un voto gli darei un 6 e mezzo 7 per me è comunque più che sufficiente nel senso che è un bel video quello che poteva aiutare è avere magari uno stabilizzatore e aggiungere movimento in alcune scene dove magari non ce n'era soprattutto quelle un po' più panoramiche dove si intravedevano ad esempio queste e anche questo non so vedere così tante persone in questo posto immagino che non ci fosse altra scelta perché essendo un posto turistico non puoi mandare via tutto però ecco tipo questo shot qui non mi dice assolutamente nulla e sì sì cioè io l'avrei evitato poi può piacere un po' non piacere alcuni dettagli non mi piace la ripetizione con questo momento qui ci sta poi si ripete in un altro punto e non lo so ci sta anche quel l'avrei un po' mascherato un po' di più magari una volta poteva bastare direi bravo complimenti non so se tu faccia queste cose per lavoro hai il video a 140 visualizzazioni sono pochi e si merita gli diamo anche dai ci iscriviamo ho delle grandi speranze per questo ragazzo e buttiamo andiamo al prossimo video il secondo concorrente Gianluca Barresi 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 Gianluca Barresi non so perché suona strano nella mia testa ogni volta comunque vediamo qui mi sembra di capire che è qualcosa di montagnoso qualità lui ci ha buttato un 4k ora ok partiamo già subito dal dire c'è troppa qualità non so come descriverlo ma non so cosa tu abbia filmato credo che a sto punto hai filmato effettivamente in 4k e questo è un nitidissimo 4k che è addirittura troppo qui nel primo shot vedo già il frame che non basta per lo slow motion nel senso che hai rallentato però non avevi abbastanza frame non so con cosa hai filmato quindi hai filmato magari in 24-25 fps e non avevi abbastanza frame per fare slow motion e in quel caso ti consiglierei semplicemente di non farlo se scegli di fare un look diciamo naturale a 24 fps perché non hai scelta perché hai voluto usare la risoluzione massima e invece di filmare insomma a 1080 a 60 fps non farlo tinglo normale e lo slow motion a meno che tu non ti compri un plugin tipo Twixor che ti aiuta però tipo ad esempio quando fai il movimento così si sarebbe notato lo stesso il fatto che manca mancano i frame figata questo no me l'hai tolto ma me l'hai tolto così? ah se c'è da grande e questa dove? bello che è ah se ci sta oh questa l'hai bruciata è sciata in automatico ah il drone era automatico non so che drone tu abbia usato però vedo che alcune impostazioni le hai lasciate in automatico e ad esempio su questo shot qui abbiamo le abbiamo chiaramente le montagne sovraesposte esponi sulle alte luci soprattutto anche perché in questo caso non ti interessava tanto l'interno della caverna cioè della caverna quello che è insomma credo cioè il focus dovrebbe essere diciamo la parte finale quindi o sarei partito quantomeno da questo secondo che è un po' più bilanciata la luce altrimenti l'avrei tolto la stessa cosa anche per questa zona qui stai attento a non sovrasporre le scene piuttosto taglia oppure compra anche un filtro ND quello aiuta tantissimo credo che il prossimo video lo farò sull'esposizione perché è la cosa più importante per riuscire a portare a casa un prodotto cioè delle clip che possiamo modificare con facilità altrimenti le cose possono diventare molto complicate ho visto ho visto sì su gran parte delle clip un sacco di luce cioè di luce altissime queste probabilmente sull'istogramma erano tutte a destra quindi buttava su cerca di tenere piuttosto un pochino sottoesposto tieni d'occhio quell'istogramma o meglio un po' di rumore piuttosto che avere la clip poi bruciata perché una volta che è bruciata non recuperiamo più l'informazione su quella parte lì movimento manca movimento c'è la scena statica ad esempio questa questo timelapse qui oppure la scena della mucca anche voi che state camminando aggiungi e hai filmato soprattutto in 4k perché hai filmato in 4k e si vede perché la qualità è altissima aggiungi un po' di movimento in post produzione quindi magari zoom un po' dentro e fai muovere la clip un po' a sinistra a destra a su e giù zooma dentro zooma fuori aggiungi un po' di movimento finto in post produzione che aiuta un po' a far andare le scene in maniera un po' più fluida il taglio della musica anche qui il taglio della musica era un po' questa clip mi piace ok mi sembra di notare che hai filmato soprattutto in ore di luce dove il sole era abbastanza alto quindi tutte le ombre tutti i colori sono molto duri anzi ti toglie un po' di poesia il panorama ovviamente se soprattutto in montagna è difficile diciamo rimanere dopo il tramonto in certi posti oppure essere lì all'alba ti consiglierei per il futuro se riesci di organizzarti in modo tale da sfruttare quei momenti lì perché sono posti veramente belli però purtroppo la luce così forte ha tolto un po' la magia diciamo e sì se ci fosse stato per assurdo un tempo un po' più brutto un po' più nuvoloso forse saresti stato in grado di avere un risultato più equilibrato di nuovo ok questa non me l'aspettavo per questo video avrei un paio di cose da sottolineare che è quello appunto dell'esposizione ovvero stai attento a non sovraesporre le scene tante di queste erano sovraesposte e si vedeva su alcune bastava magari tirare giù un po' l'esposizione le luci i bianchi oppure abbassare le ombre aggiungere magari un po' di contrasto dopo tutto questo però sì stai attento all'istogramma di solito tutte le macchinette ce l'hanno quindi presumo ce l'abbia anche la tua se ad esempio abbiamo tutto quanto a sinistra vuol dire che l'informazione sulla nostra clip è prevalentemente sottoesposta e dobbiamo stare attenti perché la scena è prevalentemente buia se invece abbiamo tutto a sinistra vuol dire che abbiamo e sta toccando in alto vuol dire che abbiamo dei punti dove la scena è sovraesposta ovviamente non sempre possiamo fare delle scene bilanciate perché è normale se magari stiamo inquadrando una parte in ombra e una parte in luce però esponiamo per le alti luci quasi sempre se non sempre mi raccomando seconda cosa non facciamo slow motion quando non possiamo se non possiamo fare slow motion perché non abbiamo gli fps perché magari è girato 24-30 fps non farlo tienilo naturale così perché dà un look poco professionale e sì è una cosa che dobbiamo evitare per il resto bei posti terza cosa alcune scene un po' ripetitive e avrei voluto vedere di più voi non so quanti eravate due o tre cavolo ditemi qualcosa di più di voi ho visto un sacco di panorami uguali sia da drone che timelapse ma ho visto poche scene come voi quindi piuttosto avrei filmato più voi che state andando in giro voi che fate cose e l'avrei tenuto un po' più anche corto perché alcune cose se le abbiamo già viste c'è non cercare di riempire per forza la musica piuttosto scegliere un altro pezzo e qui un'altra cosa la musica a me personalmente non è piaciuta tantissimo perché non sono un grande fan di questo genere di musica non saprei cosa consigliarti per un video del genere pensando alle clip che hai messo avrei messo sì qualcosa un attimo di più calmo oppure avrei giocato solo sul sound effect quindi avrei messo i rumori i passi avrei sfruttato diciamo tutto quello che era naturale per farmi immergere dato che non hai sfruttato slow motion la prossima volta o scatta piuttosto 1080 e così puoi rallentare oppure scatta 1080 oppure prendi la 7S3 che fa 4k 120 se dovessi dargli un voto non voglio essere cattivo diciamo 5 e mezzo 6 perché ci sono tanti elementi che avrei evitato e a livello di immagini diciamo non raccontava una storia vera e propria cioè ho visto un sacco di panorami però non capisco se appunto è la vostra avventura ma volevo vedere più voi che i panorami quindi la prossima volta magari cercate di inserirvi di più nei panorami anche col drone magari quando state passeggiando fate le camminate e siete in un punto bello fatelo non limitatevi a questo è il posto questa è la montagna questo è un altro posto cioè cercate di dare una continuità un senso anche solo a livello di immagini se non se non volete parlare il terzo concorrente Nicola Costa allora Dolomiti Porta del Paradiso Tramonto Magical sul Sass di Stria Dolomites Italy ok occhio ai titoli tenetele pulite perché tanto se avete parole chiave da inserire perché è più facile poi cercare il video mettetele nei tag perché poi tanto se uno cerca ad esempio non so hai già messo Dolomiti mettere di nuovo Dolomites per gli inglesi si può anche non mettere nel senso che basta metterlo nei tag e il gioco è fatto cioè hanno più o meno lo stesso impatto e ripeterlo diciamo anche nella descrizione funziona lo stesso quindi bello bel posto hai beccato hai beccato il momento giusto no dai no l'hai fatto veramente ma c'è il tipo che cammina lì indietro ma non si fa cioè no no cazzarola allora fatelo quando si tratta di cambiare la velocità e ci sono persone o cose che è naturale che vada diciamo in un senso oppure la pioggia che va su a meno che non sia un effetto proprio voluto quindi se dopo questa scena non c'è un'altra scena dove la gente va solo all'indietro hai sbagliato cioè è da evitare secondo me perché non toglie quel cazzo cioè da quel senso di poco professionale ma 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 scusami come ci come ci sei arrivato lì come chi era chi eravate cosa avete fatto siete scesi dopo il tramonto con le luci cosa avete fatto cioè raccontami ti prego di più non puoi darmi solo questo questa punta di drone così cioè un posto bellissimo un momento bellissimo ma diciamo che farci un video completo è è poco quindi sì mi sarebbe anche qui piaciuto vedere qualcosa più di di chi sta facendo cosa come ci è arrivato e tavolo prima per strada non c'era nient'altro da filmare quindi ecco una cosa quando ad esempio andate da qualche parte filmate anche durante il tragitto filmate mentre siete in macchina filmate mentre state facendo anche una pausa del panino state bevendo qualcosa mentre state salendo il fatto che fate fatica il fatto che non so trovate qualcosa un animaletto un altro paesaggio diciamo che poteva essere un buono queste clip potevano essere ottime per un culmine quindi la fatica fatta per arrivare lì a godersi questo tramonto sarebbe stato perfetto così purtroppo è un po' statico nel senso che c'è lo stesso posto nello stesso momento per un minuto e 20 seconda cosa la grafica iniziale non lo so non non mi fa impazzire cioè piuttosto non l'avrei messa oppure avrei messo una cosa tipo 3D di una clip del drone che va in avanti oppure che rivela quindi piazzarlo in after effects lì oppure semplicemente no metal perché le scene erano belle e sì il resto sai già cosa ne penso se dovessi darti un voto per me no non voglio darti un voto cioè tipo ti farei rifare i compiti ti farei rifare il compito perché è insufficiente cioè sono bellissime scene ma è insufficiente come come contenuto per per un qualcosa che effettivamente può intrattenere 4 3 o meglio se lo rifacciamo ok questi erano i video io mi sono divertito non so voi fatemi sapere se vi è piaciuta questa modalità e se volete che lo rifacciamo scrivetelo qui sotto e mandatemi i vostri video delle vacanze che rifaremo la stessa cosa tra un paio di settimane e spero soprattutto che sia stato utile per chi ha e spero che sia stato utile per chi ha partecipato e anche per quelli che lo stanno guardando e basta ora ha smesso di piovere credo che potrò finalmente tornare a casa e mangiare io scapo alla prossima ci vediamo ciao